Il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta dell'avvocato di Antonini di nullità della misura cautelare. Il Corpo Forestale dello Stato rende noto che gli incendi boschivi in Umbria hanno subito un vertiginoso calo. Nel prossimo novembre scade la Cassa Integrazione per gli operai della Merloni, c'è perplessità sul futuro dell'azienda. Oggi doppia seduta di allenamento per i grifoni che avranno due giorni di riposo il 14 e 15 agosto. Benvenuti da Tef Channel News, apriamo subito con una notizia dell'ultima ora perché sembra sia stato raggiunto un accordo con l'azienda Umbria Mobilità e tra pochi minuti dovrebbe cominciare una conferenza stampa dei sindacati per rendere noti i dettagli di questo accordo. Abbiamo in collegamento telefonico Mario Bravi, segretario generale della CGL dell'Umbria. Benvenuta a Tef Channel News, buongiorno. Allora cosa può dirci di questo accordo? C'è un accordo positivo perché dopo lo sciopero del 7 agosto si è raggiunto un accordo con gli enti proprietari e con l'azienda che garantisce sul mantenimento dei livelli occupazionali, del servizio e della contrattazione integrativa. È oltre a questo che si aprirà un percorso di confronto sul piano di bacino dei trasporti, quindi in una fase difficile, è un passaggio assolutamente importante e significativo. Bene, e per gli utenti quindi buone notizie. Sì, adesso vigileremo sulla prosecuzione delle prossime settimane e prossimi mesi. Invece per quanto riguarda l'ingresso di un partner privato? È caduta la linea, quindi continueremo a tenervi aggiornati perché la conferenza stampa comincia tra pochi minuti e noi ovviamente saremo presenti con le nostre telecamere, ma intanto sappiamo che un accordo è stato raggiunto. Il Tribunale del Riesame ha riespinto la richiesta dell'Avvocato Di Antonini di nullità della misura cautelare. Ce ne parla Paolo Pianigiani. Il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso presentato dall'Avvocato Maglio Morcella, difensore dell'ex Presidente della Banca Valori Spoleto e successivamente della controllante Spoleto Credito dei Servizi Giovannino Antonini, con cui aveva chiesto l'annullità delle misure cautelari per il suo assistito agli arresti domiciliari dopo il provvedimento firmato dal GIP di Roma Maria Paola Tomasselli. Il Collegio del Riesame, confermando gli arresti domiciliari per Antonini accusato di corruzione in atti giudiziari, ha evidentemente confermato la persistenza delle esigenze cautelari esposte nel corso dell'udienza di mercoledì scorso dal procuratore aggiunto Nello Rossi, che in aula ha rappresentato la pubblica accusa. Per gli inquirenti, infatti, il filone Spoleto Credito dei Servizi dell'inchiesta romana sulla corruzione giudiziare è definito il più rilevante. Come è noto, secondo l'accusa, Antonini, tramite il suo intermediario Cerruti, avrebbe pattuito con il giuse del Tar del Lazio, Franco Angelo Maria De Bernardi, la somma di 50.000 euro in cambio di un esito favorevole da parte del Tar stesso sulla richiesta di sospensione del decreto con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva disposto il commissariamento della Spoleto Credito dei Servizi. I giudici del Tar hanno rinviato al 2 ottobre la sentenza di merito. È probabile che la difesa di Antonini rinnovi alla Corte di Cassazione la richiesta di revoca degli arresti domiciliari. Sentiamo allora quali sono i risvolti per i consumatori. Lo facciamo con Alessandro Petruzzi, Presidente della Feder Consumatori dell'Umbria. È linea? Sì, buongiorno. Benvenuto a Tech Channel News. Allora abbiamo appena sentito questa notizia, ma per i cittadini cosa significa? Per i cittadini significa un'allerta dal commissariamento, non solo dai ultimi avvenimenti e dall'arresto per la questione romana dell'ex Presidente. Il commissariamento da parte di Banca Italia, della Banca e della Cooperativa Credito dei Servizi rappresenta un colpo duro per l'economia della nostra regione, per tantissimi investitori, addirittura coloro che hanno le azioni potrebbero rischiare anche economicamente. Da qui la decisione di Feder Consumatori di assistere individualmente e collettivamente chi vuole. Abbiamo avuto un primo incontro con il nostro Vice Presidente nazionale ad alcuni cittadini proprio ieri a Spoleto e se le cose venissero confermate, le accuse, anche una eventuale Costituzione di parte civile. Lei ha parlato di grandi investitori, ma ci sono anche tutti… No, di piccoli. Io ho detto che è un grande problema per la nostra regione, per l'economia regionale. Ci sono anche tanti piccoli risparmiatori che magari hanno depositato i risparmi di una vita. Soprattutto per questi piccoli investitori che non devono per ora temere o non vogliamo creare inutile allarmismo. Però, così come si è dimostrato e stiamo procedendo per la questione Ligresti e Fonsai, stiamo raccogliendo le adesioni di chi vuole essere tutelato. Abbiamo costituito un pool di legali umbri nazionali che hanno seguito altre questioni, appunto da Fonsai in questo momento, ma Parma, Latcirio, e ci stiamo attrezzando per seguirli e tutelarli individualmente, nei casi più piccoli, collettivamente. Vorrei sottolineare che in Umbria è arrivato il momento di aprire una questione morale sui vari livelli di rappresentanza e istituzionali. Non si può più far finta che non esista una questione morale e di infiltrazioni che attraversano la nostra economia, gli istituti di credito e, perché no, tutti i livelli di rappresentanza. Certo. Un'ultima battuta per chi volesse contattarvi, insomma, il vostro filo diretto? Il nostro filo diretto è federconsumatori.perugia.it o la nostra sede a San Sisto in via Donizetti 59 che da lunedì prossimo, solo questa settimana, tutte le mattine, dalle 9.30 alle 12 è aperta e a disposizione. Più abbiamo 18 sportelli nel territorio, compreso a Spoleto, ma questa questione la gestisce direttamente l'ufficio di presidenza Umbra e nazionale, quindi chi vuole ci può contattare o presso il nostro sito e il nostro indirizzo di posta elettronica o presso il nostro sportello e ufficio regionale a San Sisto. Benissimo, grazie. Allora ad Alessandro Petruzzi, Presidente della Feder Consumatori dell'Umbria, andiamo avanti con il nostro notiziario perché il corpo forestale dello Stato ha reso noto che gli incendi boschivi in Umbria hanno subito un vertiginoso calo. Paola Costantini. Solo 11 gli incendi boschivi registrati in Umbria dall'inizio dell'anno a ieri, a renderlo noto il comando regionale del corpo forestale dello Stato, specificando che nel quinquennio precedente la media degli incendi boschivi in regione nello stesso periodo di tempo era stata di 57. Quindi nel 2013 si sta registrando un calo dell'80% nel numero di incendi che al 12 agosto del 2012 erano stati ben 141 ad essere scoppiati dall'inizio dell'anno. Anche la superficie boscata bruciata quest'anno risulta molto bassa, circa 26 ettari. Tra gli incendi boschivi del 2013 in Umbria uno dei più impegnativi è stato quello dell'8 agosto scorso in località Pian della Noce del Monte Martano nel comune di Spoleto. In quel caso furono una trentina gli ettari complessivi di superficie percorsa dal fuoco di cui circa 20 di bosco. L'incendio venne provocato dalle scintille di un mezzo meccanico, una trinciatrice durante le operazioni di ripulitura di un terreno agricolo. Una persona è stata denunciata per incendio boschivo colposo dagli agenti della stazione di Spoleto del corpo forestale dello Stato. La compagnia di Assisi hanno arrestato ieri sera due romeni per il furto di soldi dall'apparecchio cambia monete per il lavaggio automatico delle vetture in un distributore di benzina della zona. Furto che sarebbe stato attuato utilizzando un marchigegno elettronico confezionato artigianalmente dai due. Andiamo avanti con la cronaca. L'operazione dei carabinieri del NAS condotta in tutta Italia ha portato in Umbria a chiudere tre depositi alimentari. Paola Costantini. L'operazione sul suolo nazionale del nucleo antisofisticazione dei carabinieri ha toccato anche l'Umbria. Controlli, sanzioni, denunce e sequestri nel Cuore Verde, nel Mirino, ristoranti, bar, pub e sagre. Il comandante del NAS regionale Marco Vetrulli non fornisce dati dettagliati. I controlli sono ancora in corso. Nell'ultimo mese è stato sequestrato cibo avariato per diverse centinaia di chili. Sono stati posti i sigilli anche ad alcuni depositi alimentari, almeno tre distribuiti nella provincia di Perugia in quella di Terni. Sanzioni e denunce anche per attività di ristorazione, non solo sanzioni per problemi amministrativi, anche per alcune sagre. L'attività svolta a livello nazionale ha portato al sequestro di 540 tonnellate di alimenti, di cui 344 di pesce, molluschi e 196 tonnellate di alimenti di varia natura. Nel prossimo novembre scade la cassa integrazione per gli operai della Merloni. C'è perplessità sul futuro dell'azienda. Piani Gianni. Da un'estate rovente si potrebbe passare direttamente a un autunno molto caldo nella fascia penninica Umbra, in fibrillazione permanente per le questioni legate alla pesantissima crisi occupazionale che ha investito l'intera area a ridosso del confine marchigiano. Al momento si contano ben 13.000 casse integrati, di cui una quota consistente fa capo all'ormai ex gruppo Antonio Merloni, su cui incombe come un macigno la data del 13 novembre 2013, tra tre mesi esatti, con la scadenza definitiva della cassa integrazione. L'allarme è stato lanciato dalla FIOM preoccupata per la lentezza della buograzia nella fase cruciale della rielaborazione dell'accordo di programma, strumento ritenuto essenziale per la riconversione industriale dell'area. La posizione della FIOM è chiara su quello che al momento rappresenta la continuità con l'ex Merloni, e cioè il gruppo JMP Industries, rispetto al quale si nutre un diffuso scetticismo. La nuova società, infatti, ha annunciato un ridimensionamento del programma previsto nel progetto industriale, a causa del venir meno delle risorse esterne su cui aveva fatto pieno assegnamento. Per la nostra terza pagina apriamo con il Corciano Festival, in corso a Corciano di Perugia. Gabriele Mirabassi è stato il grande protagonista della scorsa serata musicale. Paola Costantini. Tutto esaurito per il concerto del compositore clarinettista jazz Gabriele Mirabassi, che si è esibito al Teatro della Fila Armonica nell'ambito del Corciano Festival, accompagnato da Daniele Mencarelli, Contrabbasso, Roberto Pistolesi-Batteria, Angelo Lazzeri-Chitarra, Manuel Magrini-Pianoforte e della Corciano Festival Orchestra diretta da Andrea Franceschelli. Mirabassi, nato a Perugia nel 67, si è diplomato in clarinetto nell'86 presso il Conservatorio Morlacchi di Perugia, autore di musica jazz. Collabora regolarmente con Gian Maria Testa, Marco Paolini, Mario Brunello ed Erri De Luca. È considerato unanimemente uno dei più grandi clarinettisti in attività. È stato per due volte top jazz italiano e nel 2004 il suo disco Graffiando Vento è stato il miglior disco di musica strumentale brasiliana dell'anno in Brasile. Nel 2009 ha ricevuto una nomination come Best Jazz Act Italian Jazz Awards Luca Flores. Da tre anni tiene concerti e insegna musica in quasi tutto il mondo e da tempo lavoro alcuni mesi dell'anno in Brasile. Nel poveriggio invece nell'ambito dello scaffale Umbro a cura di Anton Carlo Ponte al Corciano Festival sono stati presentati punto smirne poesie di Brunella Bruschi, frammenti poesie di Carlo Mosche e poeti di Perugia saggi di Walter Cremonte. Parliamo di cinema prosegue il film festival sotto il cielo di Todi al Giardino Francisci. Domani e dopo domani sarà proiettato il film di Pupi Avati quando arrivano le ragazze ambientato durante Umbria Jazz a Perugia. Il regista sarà presente alla proiezione venerdì 16 agosto. Ed è il momento di parlare di sport. Oggi doppia seduta di allenamento per i Grifoni che avranno poi due giorni di riposo il 14 e 15 agosto prima di riprendere l'allenamento precampionato. Paola Costantini. Oggi doppia seduta di allenamento per il Perugia che poi riposerà per due giorni. Il tecnico Cristiano Lucarelli ha deciso di concedere il 14 e il 15 di agosto ai suoi giocatori che saranno impegnati in amichevole domenica 18 agosto contro il Viareggio, formazione che milita in prima divisione. La partita in programma alle 20 e 30 allo Stadio dei Pini. La società Biancorossa dopo i colpi messi a segno nella giornata di ieri che hanno riportato nel capoluogo Umbro.